Salve a tutti ragazzi sono sempre io E benvenuti in giveaway giochi vinci Anche se a dire il vero forse non si può neanche più tanto chiamare così Visto che di giveaway rimane ben poco e soprattutto rimane ben poco della parola vinci Ecco perché in questa edizione rimasterizzata, in questa nuova edizione non ci saranno più premi Ecco beh sicuramente o almeno spero avrete presente quanto è successo La scorsa settimana appunto venne lanciato questo giveaway in collaborazione con Cooler Master Dove venivano messi in paglio determinati premi e venivano assegnato solamente al vincitore della giornata Quella persona che sarebbe riuscita a vincere il gioco proposto durante il determinato video Ecco ma purtroppo a causa di alcune persone che si sono mostrate poco sportive Chiamiamo così e che c'è stato quindi un dilagare di cheat e di persone che hanno barato Allora è stato praticamente sospeso, le conseguenze quali sono? Che solamente il primo giorno verrà assegnato il premio La persona, il vincitore verrà contattato tramite un messaggio personale su YouTube A breve lo farò, quindi faccia attenzione e controllate la vostra posta che potrebbe arrivarvi un messaggio E invece quest'oggi, scusatemi, per quanto riguarda invece il secondo giorno il premio non viene assegnato E gli altri video che sarebbero stati il terzo, il quarto e il quinto non sono stati pubblicati E vengono pubblicati racchiusi in solamente questo Bene allora, questo video è un po' così, un po' per rivalutarvi ecco tra virgolette possiamo dire Nel senso che quest'oggi non c'è in paglio nessun premio Ma c'è semplicemente gioco, potrete partecipare, le regole sono sempre le solite Insomma, io vi fornirò un gruppo di lettere e dovrete utilizzare solo e solamente quelle per comporre la parola più lunga possibile Non dovete ripeterle, dai ragazzi, mi sembrava abbastanza chiaro Considerando che in un gruppo c'erano due R per esempio Beh, non vorrei che potete usarne 80, solamente le lettere presenti potete usare E quindi, insomma, le regole sono sempre le stesse Cercate di scrivere la parola più lunga possibile, mettete il numero di lettere utilizzate e niente Questo è semplicemente con l'intento di portarvi un piccolo gioco Se non avesse niente da fare questo pomeriggio, lo potete passare così Cercando di scrivere le parole, provandoci Senza andare a ricorrere a nulla Perché tanto l'unica cosa che vincerete sarà semplicemente la gratificazione Di aver partecipato, di aver giocato E spero anche magari di esservi divertiti Perché no, io spero che vi siate anche un po' impegnati Ecco perché adesso, insomma Cercare di creare anche una parola con le lettere così a casa Non è magari così immediato Ecco, quindi spero che magari possiate trovarlo come un passatempo alternativo Magari anche da fare un qualche amico mettendovi lì anche in competizione tra voi due Per cercare di tirar fuori qualcosa di buono da questo E appunto questo video nasce anche per tirar fuori qualcosa di buono tra voi Ecco, nel senso che Come vi ho detto non c'è nessun premio Ecco, un po' mi dispiace Ma questa volta sarà così I premi li troveremo così a ogni futuro Per metterli in paglio Con modalità diverse Ma questo oggi è solamente così Solamente per giocare, no? Perché questo è lo spirito, no? Io sono qua più su YouTube perché mi diverto e mi piace E io spero che voi mi seguite Scusatemi, l'italiano è importante Mi seguiate Proprio perché magari Io vi posso magari divertire O vi posso comunque trasmettere qualcosa E quindi cerchiamo di far sì che questo contest Si chiuda nella miglior maniera possibile Non quella che abbiamo visto la scorsa settimana Quello non era un contest Quello non era il pubblico che conosco Non siete voi, spero Almeno mettiamoci una pietra sopra Andiamo avanti Andiamo avanti con un nuovo spirito Uno spirito di persone che sono qui per divertirsi Semplicemente perché vogliono farlo Nient'altro Ecco, ma diciamo più che altro Il termine che ho utilizzato correttamente È divertirsi È una parola, a quanto pare, molto semplice e banale Ma che non va mai dimenticata Non trovate? Beh, allora, con questo è tutto Io vi ringrazio Vi invito allora Perché non a lasciare un mi piace Perché è sempre da me Si è gradito Ma spero che insomma Abbiate un po' capito Quello che volevo trasmettervi E se l'avete capito Perché non apprezzare tutto ciò Ma soprattutto Ora io vi lascerò Per qualche secondo I gruppi di parole Prendetene nota E beh, se aveste voglia di partecipare Fatelo Io vi ne lascerò un po' E niente Tutto nel segno della sportività Diciamolo così Ragazzi Questo è tutto da LEGO S90 E ci sentiamo prossimamente Con i prossimi video Sull'angolo E-Tech Ma non solo Su gameplay The Space Battlefield Tutto quello Che avrò modo e piacere Di proporvi Su Qua Su questo canale Sono LEGO E alla prossima Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti 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 Grazie a tutti.